Eccoci qua, www.moriziopoli.it, Rete Brescia, canale 99, riparte economicamente il programma che parlerà di educazione finanziaria, sì, ma con ospiti, professionisti che ci parleranno della protezione patrimoniale, dei propri risparmi, dei propri soldi, il mondo del gatto e la volpe, delle truffe, anche della protezione dei vostri soldini nel mondo delle criptovalute, ma avremo anche le imprese, i loro imprenditori che ci parleranno delle storie delle loro aziende e ci daranno degli spunti di riflessione per quanto riguarda il presente e il futuro di economicamente. Vi aspetto ogni lunedì alle 8.30, canale 99 e io sono Maurizio Poli e buona educazione finanziaria a tutti.